Prosegue il processo di biofitobonifica dell'area Examga di via Morosini cominciato nel 2021. Continuano a crescere le 147 piante messe a dimora nel processo di epurazione della porzione residenziale fra porto e centro direzionale Benelli che da anni convive con la rimozione di amianto dal sottosuolo inquinato. Processo di bonifica che intanto vede però nuovamente lievitare i costi dell'operazione con il monitoraggio e gestione dell'inquinamento in capo a marche e multiservizi chiamato ad installare un nuovo impianto di pompaggio e trattamento in superficie delle acque di falda contaminate. Un'operazione che aggiunge altri 155 mila euro per un costo della bonifica complessivo che tocca ora quota 4 milioni. Bonifica è supportata da 676 mila euro di fondi regionali destinati però non solo all'Examga ma anche al sito contaminato di via Trometta così come all'ex consorzio agrario dove si attendono i risultati dell'analisi ARPAM per dare il via al progetto delle due torri da oltre 60 appartamenti bloccate da tre anni dal travagliato iter giudiziario che ha ingarbugliato Comune, Capitaniera di Porto e Società Costruttrice in una controversa vicenda risolta a novembre 2022 in favore della ripartenza del cantiere.